Non veniamo mai meno ai disegni della Divina Providenza, che, alternando nella vita dell'individuo e delle nazioni le gioie e le lacrime, li conduce al conseguimento del nostro ultimo fine. Guardiamo, dietro la mano dell'uomo che così si manifesta, la mano di Dio che si occulta. Cari sorelle, cari fratelli, abbiamo appena sentito, letto, uno dei pensieri più famosi di Padre Pio, mischia le tue lacrime alla gioia che occorrono entrambe nella tua vita. Al di là della semplicità del tutto francescana e serafica con la quale Padre Pio esibisce in questo pensiero una grande tradizione cristiana, qui dentro sono innestati almeno tre concetti spirituali e teologici che ci sono certamente utili. Il primo è di origine agostiniana. Padre Pio, non dimentichiamocelo mai, è stato un ottimo conoscitore dei teologi e dei padri della Chiesa. In questo caso Sant'Agostino, il quale ci mette in guardia, avendo letto bene il Vangelo, che assieme al buon grano nel mondo ci sarà sempre la crescita della zizzagna. Anzi, Sant'Agostino, il dottore di Ippona, parlava delle due città, la città celeste e la città terrena, diceva in latino quipe, quiper mixte sunt, che sono tra loro per mixte, cioè sono frammiste. Non si può, Padre Pio vuole dire, rescindere finché siamo in questa nostra vita il bene dal male del tutto. È impossibile. Dobbiamo accettare di convivere nostro malgrado, appunto, con le gioie ma anche con le lacrime, con il bene ma anche con il male, scegliendo piuttosto però il bene, senza lasciarci come con delle specchiette della lodore avvinghiare dal male, che ci porta solo alla distruzione. Ma qui è esibito anche un secondo altro concetto molto importante. Mentre noi andiamo avanti, potrà succedere, guardate fratelli e sorelle, questo è fondamentale se riusciamo a capire, potrà succedere che noi capiamo il segreto del cristianesimo. Qui rallento un po' perché è importante. Ad ogni croce corrisponde sempre una risurrezione. Vieni tu colpito da una malattia. Stai iniziando oggi una giornata nuova in questo magari freddo mese di gennaio con un'angoscia. Se sei cristiano tu devi sapere che dalmeno scaturisci sempre il positivo, a parte che lo diceva anche Hegel, un filosofo tedesco cristiano protestante, ma lo dice soprattutto Padre Pio e Gesù. Sappi che se tu, nella misura in cui accetti il meno e la sofferenza, solo allora poi essa diventa un più. Il meno è così e il più è così. Cioè arriverai alla croce risuscitata. Questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento. Ma il terzo è questo. Dio di solito agisce sempre per due cause. Si serve nella sua insuperabile sapienza e nella sua dorata divina providenza di far leva sul male che lui qualche volta permette per poter trarne un bene maggiore. Noi non dobbiamo per questo aver timore o paura se ci capita qualcosa di male. Anche i fatti più impensati. Anche Dio non voglia un incidente, una caduta. Anche una malattia dell'anima che oggi sono molto diffuse. Un attacco di panico. Una striatura di depressione. Perché può essere quella. Anzi, se tu credi in Dio, è proprio quella striatura negativa. Quel meno su cui farà leva Dio, che è padre. Qui sta il punto, come ci insegna Padre Pio. Su cui farà leva Dio per portarti alla gioia della risurrezione. Sorelle e fratelli, il messaggio di Padre Pio oggi è chiarissimo. Se tu vuoi essere cristiano, come il saio di San Francesco, devi abbracciare la croce. E soltanto in questo modo vedrai la doxa, la gloria della risurrezione. E soltanto in questo modo vedrai la risurrezione.